L'impegno al momento dell'insediamento era stato chiaro, lavorare per non esternalizzare i servizi e aumentare invece il personale interno. La promessa però, stando a quanto riferisce il Consiglio di amministrazione delle case di riposo ISAC, riunito oggi al gran completo, non può essere mantenuta. Il motivo sta nelle voci di bilancio, precisamente nel fondo risorse accessorie dal quale si attingono le somme per alcune voci degli stipendi, indennità varie e straordinari per esempio. Richiamare la gente da ferie o da altre festività o da riposi per superire le persone che sono assenti. Quindi non abbiamo possibilità di superire le persone assenti mediante nuove assunzioni che andrebbero a impattare su questo fondo, il quale non può andare in esubero di utilizzo. In un eventuale esubero saremo costretti a ripianarlo negli anni futuri mediante utilizzo del fondo futuro. Una situazione che dovrebbe sbloccarsi l'anno prossimo, quando il fondo diventerà capiente da permettere al CDA di bandire i concorsi per l'assunzione del personale interno. Nel frattempo un intero reparto di Villa Serena, il quarto reparto col boschino, verrà esternalizzato. I 12 operatori e i due infermieri che attualmente vi lavorano spostati in altre aree. Infatti nel contratto di appalto andremo a inserire una clausa recessoria che qualora l'ente abbia la possibilità di tornare ad assumere il personale diretto, il reparto sarebbe reinternalizzato. Con soddisfazione sia per questa amministrazione che crede nel personale interno e sia anche per l'ospite che si vedrebbe, diciamo così, forse seguito meglio. Un fronte caldo insomma a quello del personale, il cui malumore è alimentato anche dalla faccenda della restituzione di parte degli stipendi percepiti in passato. Anche perché il personale è indenne da queste cose. Purtroppo c'è stato in passato un'interpretazione distorta di quelle che sono le indennità da erogare e sono state erogate delle indennità per le festività infrastrimanali che non erano dovute. Queste indennità sono ripetibili nel senso che sono state indebitamente erogate e devono essere richieste. Ma le grane per il CDA non finiscono qui. C'è la questione caldissima delle gravi affermazioni fatte dal dottor Artuso ai nostri microfoni e l'ispezione ordinata dalla regione con le verifiche e i sopralluoghi effettuati mercoledì nella struttura bassanese. Il consiglio di amministrazione nella giornata del lunedì ha deliberato una ferrea presa di posizione mediante conferimento a legale al fine di presentazione di un esposto querela a carico del dottor Artuso. Per tutti gli altri particolari ovviamente non possiamo esprimere alcunché proprio perché ci sono le indagini in corso.